Tre zone ad intensità restrittiva di condizioni di fruibilità crescente, scritto così nella nota diffusa dalla Prefettura che con il capo della Gendarmeria Vaticana e il dirigente dell'Ispettorato Vaticano ha stabilito le zone di sicurezza progressivamente più stringenti in base a dove si troverà Papa Francesco in visita a Bari il prossimo 23 febbraio. Lo spostamento avverrà tra la Basilica di San Nicola e Piazza della Libertà dove sarà celebrata la Messa. Si tratta di un'area di massima sicurezza dove si svolgerà l'evento, a sua volta divisa in area riservata e area di rispetto. Nell'area di massima sicurezza sono state individuate tre zone, quella interna alla Basilica di San Nicola dove saranno presenti in maniera esclusiva il Papa, i Cardinali, i Vescovi e i Patriarchi per l'incontro religioso a porte chiuse. La seconda che comprende Largo Urbano II e Piazzale San Nicola dove sosteranno alcuni fedeli. Mentre nella terza che va da Piazzale Colombo a Lungomare Augusto fino a Piazza 4 Novembre, Corso Vittorio Emanuele, fino all'intersezione con Via Montrone e l'intera Piazza Massari, ci sarà una parte transennata percorsa dal Papa e un'altra dove sarà consentito solo l'accesso pedonale ai residenti, titolari di esercizi commerciali e ai fedeli nei limiti della capienza stabilita. Questi accederanno attraverso barchi presidiati dalle forze dell'ordine dopo aver superato controlli con apparecchiatura radiogena o metal detector. I varchi saranno ubicati su Corso Vittorio Emanuele fino all'intersezione con Via Marchese di Montrone e parte di Piazza Massari. In ultimo ci saranno una zona a cuscinetto a ridosso dei luoghi interessati dall'evento che fungerà da fascia di protezione alla quale potranno accedere tramite varchi presidiati, pedoni e veicoli autorizzati. È una zona di rispetto, un anello di protezione più ampio con lievi limitazioni in una cornice di sicurezza. I divieti saranno in vigore dalle 19 di sabato 22 febbraio fino a cessate esigenze di domenica 23.